Buonasera, di Ted Couser, Scegliere una lettrice. Per prima cosa mi piacerebbe che fosse bella e che camminasse con grazia sulla mia poesia. Nel momento più solitario di un pomeriggio, i capelli ancora umidi sul collo, lavati da poco. Dovrebbe indossare un impermeabile vecchio, un po' sporco, perché non ha abbastanza soldi per la lavanderia. Tirerà fuori gli occhiali e lì, nella libreria, sfoglierà le mie poesie. Poi metterà di nuovo il libro sullo scaffale e si dirà a quel prezzo posso far lavare il mio impermeabile in tintoria. E lo farà.